Ma che molti paesi di città... Nuova ZTL a Napoli, in via Pomeo. E così anche il quartiere di Soccavo ha la sua zona a traffico limitato, aprendo a un uso diverso del terzo centro commerciale della città. Saranno 280 metri di strada con la limitazione al traffico veicolare, quelli che portano anche a Soccavo la politica dell'amministrazione comunale di limitare l'uso delle auto e valorizzare così i centri commerciali naturali. A illustrare il progetto, l'assessore alla viabilità del comune di Napoli, Anna Donati. Abbiamo sempre detto che non ci saremmo fermati al centro storico della città perché molti quartieri hanno voglia e diritto di avere lo stesso trattamento del centro antico. Via Pomeo è un centro commerciale naturale già molto utilizzato, rendendo a traffico limitato i 300 metri centrali e riorganizzando il sistema di accessibilità, lasciando passare naturalmente taxi, autobus, disabili, cioè tutti quelli che del veicolo naturalmente non possono fare a meno. Riteniamo di assicurare ai cittadini una miglior frumizione della zona commerciale, i bar, insomma tutto quello che c'è per potersi godere quel pezzo di città, ma assicurare che al contorno comunque si possa arrivare, naturalmente oltre che col trasporto pubblico, anche entrando in un garage, con la propria automobile.